Signori, il vecchio ferro è tornato finalmente sulle orme di un nuovo gioco che ha bisogno di un nuovo capitano Voglio una cavolo di vittoria in arena con 20 cavolo di kill Non si accettano piccoli cambiamenti, non si accettano sconfitte, non si accetta nulla ragazzi Dobbiamo dimostrare, dobbiamo dimostrare che il codice ferro ce l'abbiamo solo noi E voi potete inserirlo tutti per supportarmi al massimo nel negozio Cioè ti calmi, ok? Primo mist ragazzi ci sta per dimostrare alla lobby che faccio schifo quando in realtà capito Ragazzi questo c'aveva pure il fucile a pompa Questo c'aveva mi avrebbe distrutto completamente ragazzi, mi avrebbe mangiato Rubiamo le kill No, no, no Ferroco, ok Allora, come vi ho detto sto dimostrando di essere scarso per far sì che la gente non si aspetti che io sia forte e poi ucciderli Proviamo il nuovo pompa regà Sapete che lo provo molto volentieri No, basta Qua ci stava una persona, ci stava molto probabilmente e non ci sta più perché effettivamente non c'è più sta persona quindi non ci sta più Ok, era quello, era quello ragazzi, era quello che avevo pure laserato Però abbiamo solo tre colpi di... No, dai l'ha preso eh Buono 40 di danno da sta distanza col pompa Veramente buonissime, fermi 102 Ma che state dicendo? No ragazzi, sto nuovo pompa è illegalissimo Fermi No, avevo hittato palesemente la... Dove sta? Oh, regà è sparito Ma che... Fermi, ok So dov'è Fermi, ok Dai no, l'ho hittato L'ho hittato gioco Ok, hittato ora Mamma mia, buono, buono, buono Ha un knit marker strano se si può dire così questo fucile a pompa Ma è molto, molto forte Ma abbiamo solo due colpi di pompa Questo non è un grande problema Questo è un problema ancora più grande Porca di quella vacca E ragà, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al cavolo di canale Lasciate un bel pollicione in su che ci deve dare la forza Per finire sta partita, signori Allora, intanto voglio sapere da voi chat e nei commenti Secondo voi... Quante cavolo di kill farò sta partita Però fermi Dove stava il tizio? Quello là che mi ha sparato? Quello là che ho appena craccato? Quello là che però ha craccato pure me Regà, devo fermarmi un attimo a prendere munizioni E cercare almeno uno scildino Cioè, regà, mi serve uno scildino e dei colpi pompa, ovviamente Non di altri Perché tanto ce ne faccio nulla Ho sentito una cassa, no? Ok, questo è molto buono in realtà Questo forse anche Quindi, ottimo Abbiamo già trovato tutto quello che dovevamo trovare Si può tornare al push Regà, belli carichi, belli carichi Leggo del 17 18 kill 7, 8 Regà, siamo in 38 persone 4 kill ci sono E adesso vedrete che andremo a fare tutte le altre Che possono servire Intanto fatemi mangiare sta cavolo di mela Anche se una sola Perché No, 98 Forse è peggio ancora di vita Mi dà un sacco fastidio Non vedere full vita Ma un altro scodone Ci fa come Un altro scodone E guardiamo anche La tua energia si iniziona un breve tempo Dopo una rampicata Salto con gli ostacoli Non mi interessa Questa mi sembra molto meglio Guerriero dei boschi Penso sia la migliore in assoluto Quindi, ottima Ci erano delle persone qua davanti Le sento ancora fightare Quindi, ottimo Regà, devo entrare proprio Come un cavolo di cattivo E prendere entrambe le kill Sento una persona anche qua Oh, siti tutti Eccolo, eccolo Ok, mamma mia Demolito, demolito No, l'avevo ritato L'avevo ritato Piramidozza Piramidozza rimessa No, ragazzi Tu mi è andato? Sì Let's go Let's go Siti tutti Ragazzi, urlo perché Avevamo pochissimo di vita E questo c'era un poppa Che è illegale Aveva oro Siti tutti Piccolo cambio No, sta baggando il gioco No, regà Ok, mi ha lagato tantissimo, eh Fermi, fermi Qua non c'è nessuno Verona, c'è spuglio Non so, non chiedetevi come mai ci stanno dei mini Uno scudone totalmente a caso Non ho pagato nessuno per farmi mettere Perché rido? Perché parlo? Perché esprimo pensieri, opinioni, interazioni Non dovrei, non dovrei Prenditi la cassa che era bella E tu Spara a lui Non sparare a me, bravo Così si fa Allora, zitti tutti Dai, non mi potevi far tirare lo scudone Ah, già lui No, 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 no Fammi 101 No, regà, l'avevo ritato Guardate, ragazzi 29 white Mi serviva per la vita quella kill, raga Sono morto Ciò il tizio sopra che è cattivissimo Fermo Sorridi, bro No, no, no Dai, ma Ma basta scappare Cioè, ragazzi Io non ho parole Vedete dopo come muoio Li demolisco tutti Cioè, ragazzi Questa mi sa che è una anche delle migliori situazioni Dalla quale sono uscito Però la gente corre La gente 27 Oh, meno male uno che vuole fightare stavolta Fightare prima potevi, eh, bro Questo non è messo male Mi ha rubato la kill Dai, mamma mia Edita di coso Io devo essere felice Devo essere triste Cosa devo essere? Ditemelo voi C'ho un medico Ora posso essere felice Basta che quel tizio non mi puscia E me lo lascia fare con calma, ragazzi E in caso, sì Prometto che sono ufficialmente felice Su Fortnite Ci siamo 5 kill 20 persone rimaste Ragazzi Questa la vinco È mia Sono ufficialmente convinto Che da adesso ho tirato tipo Previsione Puoi vedere sempre Prossimo cerchio della tempesta No, regà Ma sta cosa è illegale Ma che state dicendo? Ragazzi Non sapevo che esistesse Sta Sto Sto apprigiando Come si chiama? Sta Sta Sette Chiamiamolo il numero sette Ragazzi, assurdo Cioè io posso vedere dove stanno le cose Lo sapevate voi? Scrivetemi nei commenti Se lo sapevate oppure no Non lo so Io sono sincero Però tanta roba Tanta roba Ma proseguiamo Proseguiamo perché Regà, sta partita è incasinata Ma molto divertente Vi avviso, eh Molto divertente Io mi sto divertendo personalmente Spero anche voi Se vi state divertendo Like, istituzione al canale E spero Stai concentrato Perché qua è un attimo Che la gente ti demolisce Ti lasera Bro, ti puoi far vedere Così capisco dove sei E posso anche io laserarti? Ma tu sei fuori di testa, bro Ma tu sei fuori di testa A starla sopra Oltre a beccarti Un bel headshot Ma aveva Qualcuno mi spieghi Sta cosa di deltaplani E comunque Sono solo perché L'uccido, eh Gallo lasro Oh mio dio Oh mio dio Ok che non era Difficilissima come kill È vero o però Bella Non facevo una kill Tipo da in volo Da tantissimo tempo E cavolo ragazzino Hai preso la persona Sbagliata Ah mi sa che una Fermi Calmi Che sto qua Aveva le armi della vita Aveva Allora Facciamo così 5 cura bomba Regale devo prendere Al posto del martello Regà Regà Non pusherò chissà quanto Ma sta partita La voglio vincere Quindi no al martello Sia al push Sia alla vita Sia i fight Sia tutto Allora Medico a bomba È una probabilità di trovare Segugio Eh sì Regà Ce l'ho il tiratore scelto Perché ho Ho sta arma Dell'assalto occhio rossi Che dovrebbe essere tipo Un fucile a cecchino Quindi l'accetto volentieri E se vengono Contrassegnati per un attimo Mi danno un vantaggio Molto molto ingente All'interno della partita Sai che qua Allora andiamo a prenderci Mi è sembrato Di sentire un gatto Ma scherzo 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 E ci sta una persona Qua davanti Airdrop bagatissimo Penso che sia uno Degli airdrop peggiori Della storia No invece Questo mi piace Questo mi piace Ovviamente mi riprendo Il mio beniamato C'è una persona sopra me Ok no fermi invece È una persona Ok Non rimangono Contrassegnati con starma Quindi abbiamo fatto la cavolata Di prendere quella roba Ma quel tizio Quel tizio con una skin Che ho già visto Ho già visto quella skin Non mi ricordo se All'inizio della partita O all'inizio della scorsa partita Terremoto Nel frattempo Il suo forte Vabbè è normale Dopo tutto Cioè i terremoti Il suo forte Sono tipo all'ordine del giorno È una persona quella Sì 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 È una persona Mamma mia che vista acuta Mamma mia Vista acuta Ma mira Mi sa che non ce l'abbiamo Così tanto acuta Fermi tutti Questa sera Vai ferro Questo è un pazzo Come quello di prima Come quello di prima Ecco Mannaggia Come quello di prima Un paio di scatole Invece a fermi No Regà questo è bravo Fermi 101 No Perché a me Perché a me Perché a me Regà Non è giusto Ucciso Comunque Vabbè ragazzi C'è tutto Basta sparare a me Ve lo chiedo per favore Ragazzi non so più come chiederlo Che arma prendo io Non so quale prendere Regà con questa forse Sono più consistente E la prendo la mitraglietta Ma c'è uno scar Ragazzi calmi 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 Ragazzi questa la voglio vincere La voglio vincere a tutti i costi Ve lo giuro Una tryharderò Ma questa la voglio vincere Veramente ragazzi Cioè devo sudare in sta partita Devo sudare tanto C'era un tizio Vorrei dargli una bella laserata Ok No Guarda che il brovina pushare me Guarda che il brovina pushare me Cosa t'ho fatto Me lo riesci a spiegare Regà questo Questo non è male Questo non è male Ma ha sbagliato tutto Ha sbagliato tutto Le scuole Oh mio dio Che laserata Bella Questa mi è piaciuta No Ragazzi Forse sono io Scarto con sta arma Ma riga Ma hanno raggiunto i deltaplani Ce li hanno tutti No io non ce li ho Ecco ragazzi Se avete visto un attimo Di il più bello della storia No che non li hanno aggiunti Li ho provati eh Ve lo giuro che Sembra che siano tutti contro di me Intanto la safe sta qua a sinistra Io la posso vedere Ne approfitto ve lo dico Si andrà a posizionare per bene Anche se Avrei bisogno di più maz regà Ma non fa nulla Andiamo L'importante è andare un attimo in safe E calmarci Così ci possiamo fare i nostri fortini Senza sprecare maz Ok Qua è proprio il centro safe Dimmi che qua Sì siamo in safe Aia Annaggia a lui Basta spararmi bro Per favore Oh Ci sta una cassa I bro non hanno preso Ah no ok Quella l'hanno presa Guardate Hanno lasciato proprio la cassa più brutta Vabbè Buona eh L'accetto volentieri Sempre un buon regalo Eh sempre Regà quel loot mi ispira Mi ispira troppo regà Fermi 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 Lo devo andare a prendere Ho bisogno di maz più che altro eh Opto per la mitraglietta Tanto i maz li abbiamo E quando maz regà Affidatevi Non ho paura di nulla Intanto siamo ancora anche Nella prossima safe di movimento Ottima cosa Quindi adesso con maz Posso non aver paura Invece sì perché C'è la safe comunque Che mi sta arrivando contro Guardate la è la safe Che adesso si posiziona perfettamente Guarda non mi muovo Tanto la safe qua Se ne torna Ah e l'altra è là in fondo Ok figo 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 Però in realtà un attimo mi muovo Scusatemi ma Ok fermi c'è il tizio Regà ho paura di Allora c'è chi in realtà Che one shot non ci sono Questa è una buona cosa Quel tizio è bravo eh È bravo perché Ho sparato per bene Mi fatemi fare una roba Mi fatemi fare una cosa Mi fatemi sparare a quelli che stanno Per venire in safe Siamo in tre Uno due tre Regà è da vincere questa partita Voglio farle 20 Eh voglio farle 10 kill volevo dire Devo killarli entrambi Però non voglio neanche morire Come un pollo Perché voglio busciarli Allora Là in safe No per poco Quindi deve venire in safe Regà 27 Ok Ne stanno uno là E uno là Nessuno di due in safe ragazzi Devo semplicemente giocare Molto più con calma Degli altri Ma posso vincere questa partita Eh regà quasi Quasi tra yard Quasi tra yard Spammatina di codice ferro Iscrivetevi se ancora Non vi siete iscritti Perché qua ragazzi È il momento È il momento in cui Non si può tornare indietro Oh la facciamo qua la storia Oh non si farà più Fermi tutti Fermi tutti Dai bro Io gli spammo Ho 500 colpi ragazzi Faccio bene a spammarli Non devo permettergli Di venire in safe Con Fermi no Non fightatevi per favore Ok che sono in safe ragazzi Ma No Regà quello c'ha pochi mazzi 99% Perché sta buildando poco Cioè quando gli spammo Non builda così tanto Come in realtà dovrebbe Il tizio è in safe Non penso Mamma mia regà Quello chi è? Mongral Regà quello è bravo eh Guardalo come se ne va dietro le strutture Regà questo ha poco mazzi Ve lo dico io E magari neanche troppa vita Si è preso il chug Dello shield Fatemi far così Eh ma regà Lui se lo sta tirando In tranquillità No Regà l'importante è rimanere In like eh Quindi stiamo calmi Non perdiamo like E sta partita la si mince Lasra lasra ferro Vai 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 No Per poco Sapete che quasi ragazzi Ve lo dico È meglio lasciar fightar sti due Forse è veramente meglio Andiamoci in safe piano Questo qua mi spamma eh Questo qua ragazzi Se vuol prendere like L'ho già visto Qua bella infamotte regà L'altro tizio se ne sta lì Io devo trovare ogni tecnica Mamma mia buono Ok giù tu Non rompere le scatole Kill presa Il presa ragazzi Ci facciamo pure le 10 kill Ci facciamo pure le 10 kill Ci facciamo pure le 10 kill Full boxato E andiamo a vincere la partita Let's go Oh mio dio Regà Oh mio dio 10 kill per noi Guardiamoci anche le statistiche A sto punto 10 kill In precisione 14% Un po' scarse Eh però colpi la testa 13 14 Ci sta regà Tanta roba E regà Sto video io lo farei uscire Quindi voi che state guardando Questo video codice ferro Nel negozio oggetti Per il massimo supporto Iscrivetevi al canale Lasciate un bel pollice Nessù E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Adéu